I carabinieri della compagnia di Licata hanno tratto in arresto un 39enne già noto alle forze dell'ordine per estorsione e maltrattamenti nei confronti di una familiare, nel caso specifico la madre. Le parole pronunciate all'indirizzo della donna di 67 anni sarebbero state gravi a tal punto da procurare ansia e timore in quest'ultima. Dalle indagini coordinate dalla procura della Repubblica di Agrigento sarebbero emerse le continue richieste di denaro da parte dell'uomo a quanto pare per acquistare droga giornalmente. È stata la madre a denunciare il caso dichiarando di essere stata minacciata di morte per l'ennesima volta e di essere stanca di consegnargli denaro circa 25 euro al giorno. Il 39enne è stato rintracciato dai militari dell'arma e rinchiuso nel carcere di Agrigento a disposizione dell'autorità giudiziaria.